Giorno 489. Le notizie più importanti di oggi vengono dalla regione di Orson. Qui gli ukraini hanno continuato a condurre operazioni anfibie lungo il Dnipro con lo scopo di sviluppare la testa di ponte dall'altra parte del fiume, sfruttando il fatto che le difese russe fossero ancora deboli a causa dell'inondazione. Geolocalizzazioni mostrano che giorno dopo giorno gli ukraini hanno rinforzato il gruppo d'assalto e secondo fonti russe gli ukraini sono passati da 50 soldati nella regione ad averne 100. In un primo momento i russi hanno impiegato l'aviazione per bombardare l'area residenziale, specialmente il ponte che gli ukraini stavano usando come fortificazione principale rifugio. Tuttavia l'uso dell'aviazione si è rivelato problematico. Il munizionamento non è molto preciso e richiede diversi attacchi o l'avvicinarsi alla linea di contatto. Quest'un ultima impossibile in quanto secondo fonti russe gli ukraini hanno rischierato diversi S-300 nelle città e villaggi vicino alla testa di ponte. Alcuni combattenti russi hanno lamentato anche l'impossibilità di usare droni avendo gli ukraini piazzato sistemi di guerra elettronica nell'area. Il che ha reso necessario l'uso di attacchi di terra per tentare di eliminare la testa di ponte. Il primo gruppo d'assalto russo ha provato a impiegare corazzati per trasportare le truppe direttamente sulle posizioni ukraine. Ma la tattica non ha funzionato in quanto gli ukraini avevano minato le vicinanze del ponte, quindi i veicoli sono rimasti immobilizzati e i russi si sono dovuti ritirare. Il campo minato è stato considerato nel secondo piano e i russi hanno quindi deciso di portare le truppe solo fino alle prime case. Sono stati usati tre corazzati per portare tre squadre all'assalto, quindi circa 30 soldati. I droni da ricognizione ukraini hanno però individuato i movimenti delle truppe russe e comunicato le coordinate all'artiglieria. Poco dopo il bombardamento ha colpito l'area di schieramento russa e inflitto numerose perdite causando la cancellazione dell'assalto. Le truppe russe rimaste sono fuggite e richiesto supporto ed evacuazione. Sfortunatamente per i russi la coordinazione e comunicazione tra squadre d'assalto sono venute a mancare a causa dei bombardamenti. Quindi quando il primo gruppo di russi, che aveva preso posizione nella foresta, ha notato movimenti nell'area residenziale, ha preso posto fosse parte del contrattacco ukraino e ha aperto il fuoco, ma si trattava invece del secondo gruppo di soldati russi. Quando sono arrivati i rinforzi, anche il corazzato di supporto ha aperto il fuoco sulle truppe nell'area residenziale. Ha poi raccolto diversi feriti dell'altro gruppo e si è ritirato. A giudicare dal video, il veicolo ha sparato in tutte le case che si trovano lungo la strada. Considerando il calibro, i muri di mattoni hanno offerto la stessa copertura che avrebbe dato un muro di carta, quindi è molto probabile che i soldati russi che erano riusciti a ottenere un punto d'appoggio nell'area residenziale abbiano sofferto riavi perdite a causa del fuoco amico. In generale, le forze russe hanno dimostrato di non essere in grado di controllare le isolette. Anche se sono riusciti a farsi strada verso l'area residenziale, il controllo di fuoco ukraino non ha permesso loro di rifornire il gruppo o effettuare una rotazione. Fonti russe ha riportato che l'uso di veicoli acquatici è stato estremamente efficace nel mantenere il controllo del fiume, in quanto estremamente veloci e mobili e impossibili da bersagliare con l'artiglieria. L'unico vero pericolo per le barche ukraine sono le truppe russe vicino al fiume. Spingendole via dalle aree residenziali e dalle isolette, gli ukraini stanno ottenendo gradualmente sempre più libertà di movimento sul fiume senza neanche controllare l'altra riva. Secondo analisti russi, una volta che gli ukraini avranno respinto completamente le truppe russe, cominceranno a cercare un punto debole, e data la lunghezza del fronte, le possibilità che ne trovino uno sono molto alte. Se siete contro l'invasione dell'Ukraine e volete supportare il nostro lavoro, potete fare acquisti nel nostro negozio ufficiale. Qui potete trovare numerosi prodotti riportanti simboli ukraini per mostrare il vostro supporto al canale e per l'Ukraine. Potete trovare il link in descrizione. Grazie per l'ascolto, anche per oggi è tutto e vi do appuntamento al prossimo video.